ciao ciao allora oggi che giorni oggi è il zong chiu jie che è la festa di metà autunno festa di metà autunno quindi che facciamo mangiamo i dolcetti della luna perché c'è la luna piena perché non la vedrete mai ma c'è la luna piena è molto bella quindi noi siamo in mezzo al prato con il nostro bellissimo setting c'è altra gente in mezzo al prato si vede nulla perché è buio ma vabbè taglieremo le parti useless siamo senza scarpe ovviamente perché fa gitano e mangiamo i dolcetti della luna allora vorrei far notare questo che viene dal canton che ha avuto l'onore di scartare che Michael ha avuto l'onore di scartare che fa veramente 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 schifo perché dici perché dentro c'era tipo il pesto i famosi dolcetti della luna al pesto allora qui c'è scritto che è Heima su qualcosa non la conosco sta parola il qualcosa è il pesto sicuro ed è veramente schifoso vabbè vediamo un dolcetto della luna nuovo dai ok ne apriamo uno nuovo questo dai viola è carino dai apriamo questo vediamo dai va bene uh fucsia vediamo questo qua vediamo un po' come è anche questo viene da canton quindi avrai paura perché anche questo veniva da canton vediamo un po' come ha fatto un dolcetto della luna che in italia non sanno cosa sono giaci alla luna questo è il dolcetto della luna qui c'è il gusto allora allora chi vuole tentare dai tento io vai ti riesci su youtube lo sai sarà buonissimo allora sembra cioccolato ma sicuro è polpa di fagioli sicuro e infatti no sembrano datteri sembrano datteri dai facciamo il giro è uguale a questo sembrano castagno datteri secchi cinesi però non sono datteri di tutti i giorni canton non fa soltanto il pesto allora vero è molto più buono questo è buono vedete dai tento anch'io anche te secondo te sono datteri vediamo questo è un dolcetto però di maiuscolo cosa è buono dolcetti della luna quando questa beve acqua della luna acqua del contadino buono 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 quindi questo è il nostro piano ora stiamo qui ci guardiamo la luna ci guardiamo la compagnia da notare l'abbigliamento io sto morendo di freddo e poi non capisco questi come facciano avere caldo no io sono half and half ho i jeans ci guardiamo i docciati della luna ci guardiamo la luna ci guardiamo la compagnia e niente adesso stacchiamo un po dalla tecnologia ciao 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 ciao